Ladri sempre più sfrontati a Borgo Ricco. È di pochi giorni fa un colpo ai danni di una famiglia del quartiere Don Bosco a Sant'Eufemia. La famiglia ha subito la sgradita visita dei ladri ad ora di cena quando era in casa. I malviventi non si sono fatti nemmeno sentire e fortunatamente non hanno rubato niente. Cresce però la preoccupazione di essere diventati bersaglio dei predoni. Per questo dal comune è partita una controffensiva con un investimento già messo a bilancio in telecamere di videosorveglianza. Noi stiamo lavorando per implementare la videosorveglianza con una variazione di bilancio di un mese fa. Abbiamo investito ulteriori 30 mila euro per implementare la videosorveglianza anche nelle frazioni. Oltre a questo stiamo cercando di lavorare per sviluppare sistemi di tracciamento con i Targa Systems. Uno di questi l'abbiamo già installato e sta per essere utilizzato dalle forze dell'ordine proprio per intracciare i malviventi. Su questo si può lavorare. Chiaramente evitare tutti i furti è impossibile, avvengono in tutti i comuni, ma contrastarli questo sì. Questo si deve fare e lo si deve fare nel più breve tempo possibile.